Cosa mi è arrivato? Già aperto, guardiamolo Vabbè dai, un pacchettino, lo apriamo Allora, vediamo un po' Il classico codicino, lo togliamo Poi, racchete Scudetto ben figa Daily Blind Oliviero, si è girato ancora Heimer Guier Pavard, il francesino Scudetto del Tottenham Ibagnet Eppure, non ci credo Subito così Match winner, Cristiano Ulala Vinicius Adli E Grazie a tutti Grazie.